Arezzo in Tour, Arezzo Innovative Tourism, è una fondazione di nuova istituzione che si occuperà della veicolazione dell'immagine turistica della nostra città, quindi si occuperà di veicolarne l'immagine nei panorami nazionali e internazionali per portare in città il numero maggiore di turisti possibile. È stato lungo e articolato il dibattito in consiglio comunale ad Arezzo ma alla fine l'assise ha dato disco verde alla proposta presentata dalla giunta Ghinelli di istituire appunto una fondazione per gestire il turismo. 19 i voti favorevoli, uno astenuto e uno contrario e così Arezzo in Tour diventa realtà. Si occuperà di branding, si occuperà di pubblicità, di social media e quindi di tutto quello che oggi purtroppo nella nostra città non c'è perché il modello di sviluppo di Arezzo era basato sul manifatturiero esclusivamente. La fondazione attraverso una convenzione con l'ente gestirà tutte le attività dell'ufficio turismo e grandi eventi. Il comune sempre in base alla convenzione assegnerà temporaneamente il personale dei servizi turistici. Questa convenzione avrà durata tre anni e sarà rinnovabile con delibera di giunta. Quella che invece viene cambiata come statuto e che anche questa è una novità è la fondazione Guido d'Arezzo, che esisteva, che cambia modo di porsi nei confronti del mercato della cultura perché si occupa non più soltanto di musica e in particolare di polifonia ma si occupa di cultura in senso lato. Quindi è una fondazione che consente l'accesso di partner privati pur rimanendo una società pubblica interamente in mano al comune per quanto attiene la proprietà ma può accettare dei soci di partecipazione che portano capitali freschi da tener conto anche che della fondazione faranno parte i cosiddetti soci sostenitori che saranno le associazioni culturali già esistenti nel territorio aretino ma che vorranno far parte con un loro delegato della fondazione cultura.